Oggi signori nuovissimo video davvero utilissimo che voglio che condividate con tutti i vostri amici che per esempio magari anche giocano le arene o che semplicemente giocano a Fortnite Perché vi mostrerò ragazzi in questo video da appena sveglio, non so se si nota, dai capelli praticamente i migliori luoghi di land in questa stagione numero 3 Ma soprattutto ragazzi dai segreti, dai life hack, dai trucchi che probabilmente la maggior parte di voi non conosce Quindi ragazzi partiamo subito con il video, let's go signori Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovissimo video di Fortnite Ragazzi oggi vi mostro davvero tantissimi segreti che probabilmente la maggior parte di voi non conosce Di fatto in questo caso ragazzi parto subito con il primissimo segreto Questo non è solo un segreto ma è addirittura un luogo segreto Ed è secondo me, anzi probabilmente secondo tutti appena ve lo farò vedere il miglior ragazzi Il miglior luogo in cui andare per per esempio fare una buona partita Perché si trova davvero di tutto In questo caso ragazzi mi trovo esattamente qui a nord ovest dello yacht Questa è la nave fantasma nella posizione D della mappa In questo caso signori questa nave fantasma purtroppo cambia sempre posizione Quindi lo spawn di questa nave fantasma non è sempre in questa posizione Basta che voi una volta che andate e scendete dal battle bus Vi guardate intorno alla mappa per vedere un pochino dov'è dall'alto ragazzi Si vede quindi la dovreste vedere tranquillamente Il dubbio vi lascio anche qui Una mappa che vi aiuta a vedere dove si spawna diciamo più frequentemente questa nave fantasma E in pratica ragazzi io non ho mai visto una nave così piccola contenere così tanto Probabilmente appunto essendo una nave fantasma e che nessuno conosce ragazzi Non ci va nessuno Però ragazzi devo dire che si trova davvero di tutto Dalle casse alle ceste di munizioni Alle ceste dei peperoncini Dalle banane alle ceste leggendari Gli airdrop Di tutto ragazzi guardate adesso vi faccio vedere Questo ragazzi è il miglior luogo Perché la maggior parte della gente su forti che gioca nella stagione numero 3 Non lo conosce Ma praticamente è davvero di tutto ragazzi Dalla ceste che ho appena aperto a queste mini ceste dove addirittura si trovano anche i peperoncini Guardate qua ragazzi abbiamo il fungo Questo qui che ti dà lo scudo Il peperoncino che ti fa andare più veloce Serve davvero tantissimo Abbiamo un po' di legna da farmare anche Qua le slurp juice Abbiamo addirittura ragazzi un'altra ceste qui Guardate sotto poi se scendiamo che cosa abbiamo Guardate ragazzi addirittura qui è assicurata la jump raga Abbiamo un airdrop dove possiamo trovare addirittura Qualcosa di assurdo Un'altra ceste Altri slurp qua Ceste leggendaria signori Guardate cosa ho trovato Abbiamo trovato addirittura anche guardate qui La ceste dei pesci Altri slurp Davvero ragazzi c'è di tutto Addirittura ragazzi per finire per concludere La barca giustamente Ma se spacchiamo esattamente questo veliero qua In pratica ragazzi ci dà davvero un botto Esattamente questa torre qua guardate Quanto ci dà e questo è veritiero Mi dà 99 anzi ci dà a tutti quelli Che la spaccano il 99 di legno Quindi è un buonissimo spawn Questo è il migliore ragazzi in questa stagione numero 3 Quindi raga passiamo al secondo segreto Barra trucco life hack Di Fortnite di questo video ragazzi In questo caso mi trovo esattamente In una parte qualunque della mappa ragazzi Dove c'è un laghettino Diciamo in questo caso sono proprio al limite Della mappa ma qui ragazzi vedete che si vede Addirittura il fondo ecco appunto Praticamente ragazzi fate attenzione molto bene Quando siete per esempio nei laghettini Con l'acqua bassa Vi faccio un esempio ragazzi Con questo lago qui Che si trova diciamo a nord di fattoria Frenetica per esempio Che non è molto profondo Ragazzi fate molta attenzione Perché come potrete vedere da questa clip Che vi ho messo adesso di sottofondo In pratica ragazzi Si possono trovare i lama Sott'acqua ragazzi E quindi fate molta attenzione Appunto perché magari Ne potreste trovare uno Che magari è proprio spawnato Sotto l'acqua E come fare per ucciderlo Come state vedendo esattamente In questa clip appunto Basterà sparare dal sopra Verso il sotto Quindi da qua Sparare nell'acqua in pratica E magicamente il looter Riemergerà tranquillamente Ok ragazzi Terzo trucco di oggi Terzo segreto Davvero interessantissimo Lo sapevate ragazzi Che con queste tanche qua Di benzina In realtà non so neanche Cosa sia di preciso Bomboli d'ossigeno Che si trovano a pozzo Traballante ragazzi Esattamente sotto questa Struttura gigantesca Questa qui di miniera Ragazzi Guardate un pochino Se noi andiamo A costruire qualcosa In legno Vi faccio un esempio Se li spariamo Guardate che cosa Succede ragazzi In pratica Come potete vedere Inizia a prendere fuoco Letteralmente Tutto quello Che appunto Ha attraccato Diciamo Alla struttura principale Dove appunto Si è dato fuoco Ma come potete vedere Ragazzi Purtroppo si prende Anche danno Quindi state molto attenti E guardate Come potete vedere Sta dando fuoco Letteralmente A tutto quello Che tocca Vedete Se io per esempio Adesso ne faccio un altro Di Ne costruisco un altro Di pavimento Come potete vedere Mi infiamma Anche questo E stessa cosa Per le case Ragazzi Le case Costruite In legno In mattoni E in ferro Non funzionano Ragazzi Ma nelle costruzioni In legno Invece si Guardate un pochino Se noi andiamo A spaccare Per esempio Vabbè Questa Andiamo a spaccare Questa Guardate che figata Ragazzi Se uno costruisce Qua tutto In legno Appunto Si infuoca Letteralmente Tutto Davvero una figata Sta roba Ok ragazzoli Quarto trucco Che purtroppo Però mi sa Che non funziona più Mi sa che appena Stato patchato Con l'aggiornamento Di ieri Comunque vi mostro Una clip Perché in pratica Ho provato adesso E non funziona In questo caso Nella partita in singolo Però magari è buggato Provatelo anche voi Ditemi se funziona Oppure no Ma in questo caso Io ve lo metto Comunque Praticamente ragazzi Come state vedendo qui Ci sono 4 gas station Al gatto grill Ma perché Praticamente ragazzi Di queste 4 gas station 3 si robono E una ragazzi Dava metallo Infinito In questo caso Ragazzi Volevo già caricarvelo Ieri Quando credo Che funzionava Sto bug Ma purtroppo ragazzi Ho avuto problemi Mi si è sminchiato il pc E insomma Non sono riuscito A caricarvi Questo video Ma ragazzoli A parte questo trucco Che non so se funziona Fatemelo sapere qui sotto Nei commenti Ragazzi Mi trovo qui In questo caso Ha fatto la frenetica Perché qui Ho trovato Questo pompa Il nuovissimo Shotgun e il fucile Pesante A carica Si parla davvero tantissimo Di questo pompa In questa stagione Numero 3 Essendo che appunto Molto lento a sparare Difatti ragazzi Come potete vedere Io clicco il tasto E spara leggermente Tipo un Barra mezzo secondo Più tardi Ma raga Un ragazzo Come potete vedere qui In questa clip Ha praticamente risolto Questo problema Praticamente Lui ha editato E ha subito sparato Con questo pompa Come diavolo è possibile Bene appunto Questo trucco Funziona da mouse E tastiera Ragazzi E dovrete appunto Andare a impostare Nella sezione Delle assegnazioni Tastiera Predefinite Quindi nei comandi Da tastiera Dove c'è appunto Fuoco Nella sezione Combattimento Ragazzi Dove c'è appunto Pulsante sinistro Del mouse Di fianco Ragazzi Dovrete semplicemente Fare così Purtroppo Vi toccherà Sparare Con la rotellina Quindi praticamente Tac Cliccare la rotellina E vedete che esce Pulsante centrale Del mouse Fare applica Ragazzi io in questo caso L'avevo già messa Perché ieri Già avevo provato Appunto a fare Questo trucchetto Ora io in questo caso Sono una pippa Da mouse Tastiera Non che da pad Sia una cima Però comunque Sono leggermente Meglio Però ragazzi Praticamente Tramite questo glitch Tramite questo trucco Perché io continuo A ostinarmi A dire glitch Ma sono trucchi Ragazzi Non sono bannabili Assolutissimamente Praticamente signori Prendendo il pompa Alla mano In questo caso Ragazzi Sarà difficilissimo Dovrete abituarvi Se volete A far sparare Il vostro pompa Letteralmente Subito Ma ragazzoli Praticamente Guardate un pochino qua Basta che io Per esempio Edito qua E come potete vedere Sparano subito ragazzi Potreste provare a fare Anche il tfew classic Praticamente Di sparare con questo E costruire Vedete In questo caso sono riuscito Non so neanche io Come da mouse e tastiera E potete vedere Che appunto Il pad Non sarà adatto Per questo trucco Perché non si può cambiare Ma invece Il mouse e tastiera Si signori Come potete vedere Appunto Questo trucco È davvero utilissimo Tra l'altro Sono arrivati i bot Non so cosa vogliono Ok ragazzoni Sesto segreto Davvero Interessantissimo Questo qui ragazzi Credo che La maggior parte di voi Forse l'1% Lo conosce Praticamente Ragazzi Guardate un pochino Io mi trovo Infatti adesso ve lo faccio vedere Perché altrimenti è impossibile Da trovare Sto posto Allora mi trovo Esattamente qui A sabbie sudate Ragazzi Dove c'è appunto Questa casona Qua enorme Ragazzi Che sarebbe esattamente Questa qui E qui appunto Tra sepi da grifoglio E sabbie sudate Abbiamo questa Capncarp E i ragazzuoli Esattamente Tra sabbie sudate E questa casetta Signori Guardate Se notate Qualcosa Esattamente Sul fondo del mare Ragazzi Potete vederlo Lo potete notare Ragazzi C'è letteralmente Un elicottero Sotto di noi Adesso ve lo pingo Così si capisce Guardate ragazzi Avete visto C'è letteralmente Un elicottero Sotto di noi E come fare Per prenderlo Questo è davvero Una figata pazzesca Perché non solo qui Ma in altre location Vecchie ragazzi In altre Old location Quindi in altre location Che prima Non erano inondate Ragazzi Ci sono alcuni Elicotteri Sommersi Come fare Per prenderlo Ragazzi Semplicemente Sparare Dovete Semplicemente Sparare Vedete Che piano Piano Ritorna A gara Questo ragazzi È un trucco Davvero Super Super Utilissimo Perché fate Conto Che magari Siete qua E non avete Elicotteri Perché qui Nelle vicinanze Non ci sono Elicotteri Ragazzi Ricordatevi Che esattamente Qui C'è appunto Un elicottero Davvero Qualcosa Di Assurdo Ma comunque Ragazzi Passiamo subito Al settimo Trucco Davvero Super Utile Terzo Segreto Ragazzi Sempre con L'elicottero In questo Caso E signori Guardate Che cosa Succede Se io Mi vado A mettere Esattamente Sopra Al mulinello Poi me ne Vado Ragazzi Quindi Non entro L'elicottero Invece Lo facciamo Stare Dentro Al vortice E ora Ragazzi Basta Semplicemente Rientrare Mentre Vi sta Per spazzare In aria Voi Cliccate La x O comunque Il tasto Per entrare Sull'elicottero E signori Guardate Un pochino Dopo La magia Guardate Un pochino Ragazzi Potremo Aprire Il deltaplano Ragazzi Quindi davvero Questo è un trucco Mega 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 Utile Ragazzi Passiamo subito All'ottavo Trucco Barra Segreto Guardate Un pochino Se avete Un pc Che ve lo Permette Ragazzi Nelle impostazioni Dove c'è Post processing Mettetelo Epico Perché Se voi Non mettete Post processing Epico Guardate Un pochino Come risulta Guardate Se invece Vado a rimettere Il post processing Guardate Un pochino Signori C'è un botto Di luminosità In più Vi lascio Qui di fianco Tra l'altro Una clip Di un ragazzo Americano Che appunto Di notte Ha messo Il post processing Confrontandolo Senza metterlo E secondo me Ragazzi È una vera figata È davvero Utilissimo Signori Quindi ragazzi Per questo video Segreti è tutto Io spero Che vi sia piaciuto Ci metterò Un secolo e mezzo A editarlo Perché è da un'ora E mezza Che sto registrando Ragazzi Lo sto scherzando Ma comunque Ragazzi Io spero Per sostenere Lucius Che vi sta portando Un casino di cose In questi ultimi giorni Quindi ragazzi Un bel like Ozzo Andatevi a vedere Anche l'altro video Dove sono andato A vincere Anzi a provare A vincere Utilizzando soltanto Loot Degli squali Ragazzi E niente signori Quindi Urca bene urca tutti Grazie a tutti Per aver visto Questo video Condividetelo Mi raccomando Perché serve davvero Tantissimo Il vostro aiuto Per condividere Questo video Perché sono dei segreti Davvero assurdi E niente signori Urca bene urca tutti Nel prossimo video Paralive Codici per te Lucius